Grazie a tutti! Non l'ha mangiato che l'ha buttato! Ruota! Ruota in lì! Uovo e caffè! No, 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 raga! Basta che non fai boi se è Antonino e poi ti voglio bene! Fremati! Monica! Uohoho! I'm ready! Yeah! Aranciata gourmet, cosa vuol dire? Vedo, vedo, un'acciuga. No, no. Moise. Zampa di gallina! Ma è schifio, ma com'è faccio? Femme la puzze, amore! Oddio! Appena, appena, appena... Non troppo morbido di leggermi. Mele di pollo! Io non ho fame! Cristina! Cristina! Ho capito già! Zampa di gallina! Buona, però! Zucco di cipolla! No, raga, questo no! Fa schifo! Ma cos'è? Sale? E' un zucco di cipolla! I won't beat! I won't! Viva il risco! Viva il risco! Grazie! Ricordatevi sempre! Occhi aperti e cuori mani! Viva il maio! Ciao Lore! Ciao Giulia! Ciao Giulia!